Pronti via, pronti via. Ioduidio, Ami Ami Share, Black Ranger. All'interno è Bittersweet, all'esterno Queen Byron e Scacco Matto. Seguono Ami Ami Share, Demi Gallant, Black Ranger. Al Nilan, ventaggio lungo la corda, Bittersweet, davanti a Scacco Matto al centropista, con più all'esterno Black Ranger, passa Scacco Matto, attaccato all'esterno da Black Ranger, passa Black Ranger davanti a Scacco Matto, al Nilan, Bittersweet e Byron, in vantaggio Black Ranger davanti a Scacco Matto e al Nilan. Black Ranger, abbiamo portato fortuna al suo allenatore Luigi Di Dio, che non vi ha nascosto, però ho le sue speranze. e quindi bisognava seguirlo, invece l'abbiamo un po' abbandonato. L'abbiamo un po' abbandonato. Gran corsa di Scacco Matto che ribadisce forma, si è rivisto al Nilan e sono un po' mancati alcuni dei più attesi. Ma questa era una corsa incerta in partenza e quindi lo è stata anche poi durante il suo svolgimento. Si è rivelato negativo il numero esterno per Weyfierer, ha provato Ami Amicere, poi però è rimasto un po' sul passo e al Nilan forse è quello che ha dato concretamente segnali di progresso, fino forse... no, è terzo.